140 anni significano tre secoli, è iniziata nel secolo del 1800, è continuata nel 1900, ora siamo nel 2000, per cui sono tre secoli di storia dell'Associazione Prologo, pensate un attimino, quindi a Pieve una grande festa e diciamo che tutto il Trentino ha festeggiato, come abbiamo festeggiato noi come UMPLI? Perché è chiaro che l'UMPLI davanti a una situazione di questo genere non può che prendere atto che siamo veramente nella storia della vita del volontariato, siamo nella storia della vita delle associazioni, siamo nella storia della vita, forse siamo le prime associazioni in tutta Italia. Allora se questo è vero ha ragione il senatore De Poli, come ha ragione Nino La Spina, come hanno ragione completamente la Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale, noi stessi Presidenti Regionali, a continuare a lavorare per le soddisfazioni che noi ci ritroviamo quando veniamo gratificati attraverso queste manifestazioni. Se ci pensate un attimo non penso che ci siano tante reti che possano dire o possano annoverare tante decine e decine di anni di storia. E la cosa più curiosa, la cosa forse la più bella è che oggi nel festeggiare la nostra prologo abbiamo festeggiato anche un grande uomo dell'UMPLI, il barone Mario, che è un grande dirigente che ci ha sempre salvaguardato nel campo della SIAE. E poi se mi permetti la ciliegina ancora più bella è quella che vai a scoprire che questo paese è il paese dove è nato De Gasperi e De Gasperi, guarda caso, ha sempre detto che un uomo grande si differenzia dall'uomo piccolo per quel lavoro che fa per gli altri e quindi è veramente un uomo che ci ha creato un tragitto, una strada, un'idea, che è quella che noi portiamo avanti. Grazie! Grazie!